Sindaco Lacchetta, come in altri comuni della provincia di Pescara, screening di massa anche a Farindola, numeri soddisfacenti come in un piccolo centro di alta montagna? Grande soddisfazione, oltre 430 tamponi effettuati, quindi oltre un terzo della popolazione residente. Lodevole la risposta della comunità, lodevole il servizio che Vivec, Croce Rosso e tutti i volontari hanno garantito e ci fa ben sperare che tutti questi negativi creano una comunità che sia autoimmune rispetto a questa pandemia. Ecco, nessun positivo finora riscontrato e questo è a ribadire il buon lavoro svolto dalla comunità di Farindola. Sì, grande senso di responsabilità da parte di tutti i cittadini che in questi mesi veramente hanno adottato un atteggiamento volto al senso civico, al rispetto delle norme e quindi hanno fatto sì che questa pandemia le desse minimalmente questa comunità. È una pandemia brutta, io stesso ne sono testimone, ma con il grande senso di responsabilità di ciascuno di noi siamo certi che ne usciremo presto a prescindere dal vaccino. Comunque i numeri incoraggianti, zero positivi, non devono far dormire e sono tranquilli, ribadiamo alla popolazione che deve essere sempre attenta. Assolutamente sì, questo fa sì che il lavoro fatto finora non deve essere vanificato da un alleggerimento delle attenzioni che in questi mesi sono stati encomiabili. Un grande ringraziamento va alla Regione, all'assessore Verì, alla ASC che con tutta la sua struttura c'è stato molto vicino e così come c'è stato vicino il Presidente della provincia Antonio Zaffira a cui va il mio personale sentito ringraziamento. a testimonianza di come quando c'è sinergia tra le varie istituzioni è possibile implementare un servizio efficace ed efficiente a servizio della comunità.